Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vedremo insieme una maglia, chi mi avete richiesto in tanti, la seconda maglia del Bayern Monaco per la stagione 2022-2023, in versione FUN. La maglia da calcio Huawei Adidas Bayern Monaco 2022-2023 introduce un design elegante. Combina una base bianca con oro metallizzato per i loghi e per le stripes. Ufficialmente i colori sono white, dark football gold. Il dark football gold ha un forte effetto metallico. Non ci sono elementi grafici e altri elementi di design di fantasia. È la prima volta nella storia del club che viene fatta una maglia bianco-oro. In precedenza l'oro era già un colore d'accento per la maglia da casa, rossa e per la terza maglia, nera, della stagione 2021-2022, trovata in alto la descrizione. Analogamente alla maglia da trasferta 21-22, la nuova maglia da trasferta 22-23 presenta lo stemma della città di Monaco sulla parte alta della schiena. Wow! Stupenda! La maglia è fantastica. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, il massimo. Fatta molto bene, con tutte le rifiniture giuste, i colori sono stupendi. Questo bianco con rifinito in oro, secondo me, è meraviglioso. E, come vedete, il costo è sempre estremamente vantaggioso. La spedizione è stata molto veloce. In questo momento il sito sta ricevendo un grande numero di ordini, però devo dire che riescono comunque a far arrivare le maglie in maniera molto veloce. È arrivata in meno di 18 giorni. E vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un coupon da 3 dollari e aiutare il canale a fare altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto. Prima di lasciarvi vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ah, continuate a guardare perché poi alla fine vedrete la vestibilità e le misure delle maglie. Ciao! Io sono alto, 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.